Il settore degli NFT ha visto una crescita esponenziale massiccia nel suo complesso, quest'anno sia nel valore monetario che in quanto adozione hanno visto gli NFT. Abbiamo tutti quanti visto le varie storie di persone che facevano il minting di nuovi NFT e le vendevano per un cento per o anche di più in un mese dopo. Abbiamo visto per esempio NFT come CryptoPunk, Ederrocks e altre nuove collezioni salire alle stelle di prezzo e tirare l'attenzione del mainstream. E atleti professionisti, star del cinema, musicisti e altre celebrità hanno utilizzato gli NFT come immagini del profilo, hanno pubblicato le proprie collezioni e anche i giochi con NFT integrati sono esplosi in popolarità. E naturalmente anche il metaverse è diventato un argomento estremamente scottante di recente e anche questo è estremamente legato agli NFT. E con tutto ciò in mente non si può negare che ci siano profitti da realizzare e investire in NFT ma in realtà può essere più difficile trarre profitti da questa tendenza più di quanto pensiate perché dovete effettivamente scegliere un specifico NFT da acquistare e non tutti gli NFT restituiscono lo stesso livello di guadagni anche quando una collezione cresce in popolarità. E può anche volerci un po' più di tempo per ricercarli con le NFT e comprare perché dovete prendere in considerazione le diverse tariffe e rarità così come altri fattori e anche quando scelete un buon NFT e il prezzo aumenta possono volerci problemi anche per realizzare tali guadagni a causa delle liquidità nei mercati degli NFT. E questo è il motivo per cui oggi vi parlerò appunto del progetto di Project X che è una piattaforma progettata per offrire agli investitori un rapido accesso liquido e semplice ai mercati di NFT attraverso un prodotto di investimento in stile ETF e ci sono anche molte altre funzionalità della piattaforma e le tratterò tutte quante in questo video. Ma come sempre ragazzi prima di cominciare con il video bentornati a tutti e assicuratevi come sempre di iscrivervi e di attivare anche la campanella così non per altri video come questo assieme a tutto il resto che pubblico sul canale. E un enorme ringraziamento a Project X per la collaborazione con il canale per questo video e quindi per cominciare diamo un'occhiata a Project X e al sito web poiché ci sono molte informazioni importanti. Innanzitutto il loro obiettivo dichiarato qui è di essere il modo più sicuro e semplice per ottenere un'esposizione al mercato di NFT. Il modo principale in cui intendo raggiungere tale obiettivo è attraverso gli ETF e gli NFT che consisteranno all'investitore di accedere a dozzine o addirittura centenaia di NFT di alta qualità senza la necessità appunto di selezionarne nessuno. E una volta che un investitore trova un ETF che gli piace può acquistare il token Erce per ottenere l'esposizione e ci saranno due diversi tipi di ETF sulla piattaforma generati dagli utenti e anche curati da parte da Project X. E come suggerisce il nome chiunque può partecipare ai pool generati da parte degli utenti, ad esempio ci sarà un pool di CryptoPonk in cui chiunque risponga di un CryptoPonk può aggiungere quella NFT al pool e ricevere il token ETF corrispondente. E quindi questi saranno supportati uno a uno, quindi se posserete un intero token potete riscattarlo per un NFT da pool. Questo sistema fornisce anche liquidità immediata perché se qualcuno lo volesse potrebbe semplicemente vendere il proprio token ETF su un DEX per incassare. Per essere chiari però non è necessario acquistare un intero token per investire in questi pool, potreste investire quasi in porto per ottenere così tanta visibilità in una collezione. E i pool di ETF ricavati dal progetto sono i pool più ampi, più sofisticati e più diversificati rispetto ai pool di utenti. E sono creati e scelti dal team di Project X, dai pool di NFT e del comitato appunto dei curatori. E differiscono anche per il fatto che si tratta di pool di bilanciamento dove combino diversi token ETF creati dall'utente. Ad esempio potrebbero esserci pool di utenti per CryptoPunk, Bored Apes e Mibit e poi nel pool di Project X per il Digital Art e per il Digital Profile Picture Art. E vengono combinati i token di quei pool di utenti in un unico pool di bilanciamento per il quale le persone possono acquistare il token. E' un altro modo in cui gli investitori possono accedere agli NFT tramite Project X semplicemente acquistando il token nativo della venta del progetto. Quindi Xil è attualmente tradable su Gate.io e anche su PancakeSwap. E se finite per acquistare un po', potete fare lo stake sulla piattaforma e avere un EPE del 250%. E allo stesso tempo potete anche diventare donne per vari omaggi NFT per gli stakers. E questi possono essere tutti quanti diversi tipi di NFT, inclusi gli NFT super rari emessi dalle celebrità che collaborano con la piattaforma. E potete anche guadagnare qualche Xil inviando i vostri NFT che detenete nei pool di ETF per assicurare che solo gli NFT di buona qualità siano disponibili sulla piattaforma. E qualsiasi tipo di NFT può essere inviato a un pool ma il team li esamina per la qualità e naturalmente per assicurarsi che non ci siano falsi o cose del genere. La distribuzione dei token in venta è mostrata qui di seguito, come potete vedere c'è una quantità significativa del token riservata per un uso futuro nel fondo dell'ecosistema, nonché per la comunità e il marketing. Quindi il prodotto avrà sicuramente i fondi necessari per espandersi e crescere oltre a fare cose come avere le partnership più sicure. E l'offerta totale di venta è di 250 milioni e l'offerta circolante di 22,4 milioni. E' una caratteristica unica disponibile per le cilibrità o influencer che collaborano con Project X per il rilascio di NFT e che possono effettivamente impostare qualsiasi percentuale delle loro royalty adebitate su 20 da donare a un ente di beneficenza di loro scelta. E se diamo un'occhiata a Project X su Twitter possiamo vederlo in arrivo il 15 novembre, la star della musica coreana DJ Soda rilascia il suo primo NFT in assoluto supportato da entrate dallo streaming e integrato appunto nelle metaverse. E un altro annuncio recente fatto su Twitter è che Project X lancerà un metaverse DAO e il 50% della fornitura del token DAO verrà distribuito ai possessori di Xil. E c'è ancora tempo per essere idonei per questo airdrop, tutto ciò che dovete fare è acquistare qualche Xil e potrete tenere d'occhio il Twitter quando rilasceranno il modulo di registrazione. E il minimo per partecipare è di 1000 Xil e l'airdrop sarà per i primi che arriveranno se volete appunto e potrete semplicemente attivare le notifiche per essere pronti per questo. E in questo momento la venta di 1000 Xil costa circa 70 dollari e il team dietro Project X è stato coinvolto nelle criptovalute dal 2016 ed è molto esperto. Il CEO John Slusarev, mi dispiace per la pronuncia, ha lavorato nel Venture Capital a New York e anche presso la società di Capital SMC. In precedenza ha anche lavorato come CMO per ICO Rating, Mitu Shipman, il CTO ed è ingegnere del software specializzato in blockchain, mobile e web e full stack development insieme allo sviluppo del software sicuro. Quindi alcuni dei partner dei sostenitori sono mostrati nella seguente sezione, quindi dopo questa ci sono partner come per esempio LD Capital o SMC Capital, Terra Virtua e Little Phil. E altri due partner chiave sono Purplefly e Who Unox e loro si staranno come partner ufficiale di cura per trovargli i migliori NFT. E se avete familiarità con Purplefly è un'etichetta discografica che ha lavorato con Squid Game, ha lavorato con Shaquille O'Neal, K-Pop Stars e tante altre celebrità. Quindi questa partnership potrebbe anche fornire alcune preziose connessioni per altre partnership future. E se volete sapere di più su Project X, acquistare alcuni token per lo staking o partecipare all'airdrop o usare la piattaforma quando verrà lanciata nel prossimo futuro, potrete fare uso di tutto questo usando il link appunto che trovate nella descrizione del video. E come sempre ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere sempre nella storia dei commenti se vi è piaciuto e ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao a tutti!